Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sempre qui sul canale con i miei sette fratelli Quest'oggi siamo i sette perché la Robby è a casa a fare i TikTok Ma dove sono i miei fratelli? Siccome sono la mia copia perché sono sangue del mio sangue Li farò comparire con la tecnica della moltiplicazione Eccoli qua! E come avete letto dal titolo ragazzi oggi faremo una bellissima tedesca challenge Nel primissimo video ha vinto Isaac la mondialito Nel secondo video che abbiamo fatto con loro è la gara di Rimorche Se ve la siete persi andatevela a recuperare Ho vinto io Scrivetemi nei commenti mi raccomando la prossima challenge Sempre sul campo oppure fuori che volete vedere con i miei sette fratelli La caca! La caca! Detto questo brevissima presentazione al volo Come potete vedere qui abbiamo il Michael La maglia della Roma Piterone nazionale Il grandissimo Peter Con la maglia di Haaland Poi abbiamo il grandissimo Edward Eccolo qui Come si diverta ragazzi col pallone nuovo della serie A di Zecca Poi abbiamo il ciccio Ciccio e la squadra La maglia del Napoli Sempre fresco sul canale Così man E poi abbiamo lui ragazzi La caca! Famoso! Il più carismatico E' proprio lui con la maglia dell'Inter La caca! Poi abbiamo Isa! Ma perché si è vestito così? Cioè Allora Un numero giocatore ha bisogno di libertà Libertà Legalità Rizzo con polle Nooo Avete mai giocato a tedesca? Sapete come funziona? Io sono dove? A Germania Ma la tedesca? Io sono il grande Schweistiger Io ho giocato nella grande guerra Quando Schweistiger è... No non è quella tedesca Allora ragazzi Non sarà tedesca normale Ma ci saranno delle penitenze All'interno del gioco Ogni due minuti suonerà il gong E l'ultimo che toccherà o il palo o la traversa Dovrà pescare in una busta e leggere che cosa c'è scritto sopra Sarà una penitenza buona e una penitenza cattiva Vediamo un attimo che cosa si andrà a pescare Ma prima signori Top Eleven 2023 è arrivato Preparati di un anno ricco d'azione con partite in 3D E guida la tua squadra verso la vetta È disponibile sia per iOS che anche per Android La nuova edizione di Top Eleven 2023 Arriva con tante nuove fantastiche aggiunte da scoprire Tra cui la nuova funzionalità di vari giocatori Offri ai tuoi giocatori sessioni di allenamento specializzate E trasformali in fuoriclassi di fama mondiale Con Top Eleven avrai sempre in tasca un intero universo fatto di competizioni calcistiche Guida un club tutto tuo Dall'ingaggio dei giocatori fino alla costruzione del tuo stadio In Top Eleven sarai tu a dettare le regole Affronta manager da tutto il mondo in questo manageriale di calcio in tempo reale Proprio come il leggendario José Mourinho Firma contratti con fuoriclassi perfetti per le tue strategie E conquista campionati, coppe, Champions League e Super League Ragazzi scaricatelo dal link in descrizione E mi raccomando Top Eleven Il miglior gioco manageriale del 2023 Allora ragazzi sapete che cos'è la tedesca giusto? Sì Sapete che c'è un portiere all'inizio di tutto E sapete chi va in porta? L'ultimo che tocca la traversa là in fondo vai Isaac corri corri Mamma mia come corre quella Attenzione tocca da tutti E allora Isaac non tocca la traversa E quindi Isaac tocca andare in porta Cominciate Robert Isaac in porta E allora cominciamo Vediamo chi sarà il primo eliminato Chi sarà il secondo Chi sarà il terzo Ma soprattutto Chi sarà il vincitore Chi sarà il terzo Occhio che il gong è vicino Via via gong 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 Bravo la cacca La cacca La cacca Questo si chiama la casa del circuito 3 3 Uoooooooh eccolo è una cosa più imbarazzante che abbiamo mai visto ooooh vada a me in porta la palla ha riuscito se cosa stava insultando la palla che passa da terra vai porta uoooooh ooooh e c'è il gol peter mamma mia mamma mia ragazzi dong ah e osimena è l'ultimo spaccati un uovo in testa spaccati un uovo in testa oh lo spaccare io guardate qua ragazzi questo succede questo succede quando scatta il gong bisogna correre e lo lo do eliminiamo eh mamma dai gong 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 com'è benissimo riprendiamo con la nostra tedesca isac a 1 signori mi vogliono eliminare perchè mi temono guardate no 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 ti vogliamo eliminare perchè siamo in troppi e siamo in troppi famiglia qua vabbè oh wow salvatanzo è la felicità eeeh 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 balletta leva 2 fai il gol fai il gol oh oh eeeh 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 io ci ho coni io si ma che cazzo io ho oh ma il cazzo è il gong è il gong mamma mia regà è il gong ultimo gong di questa mancia Si ripartirà dopo averne eliminato due Ok, quindi pescate Pesco, pesco, pesco bene Leggi, leggi, leggi Spalmati il ketchup in faccia Spalmati il ketchup in faccia Grande, Isaac Allora è meglio l'uovo Aspetta Dai, ma parca troppo La caca La caca La caca Oh, è fenomenino Due, 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 due Bello Bello Uno, tre Strategia questa Intervengo io alla palla rimbalzata Rimbalzato, dentro E Michael vai fuori Vai, due, due Ehi, due Due, vai con la due Vai, vai fuori Vai, a uno E a uno Vai, vai, caca La caca Isac è fuori Salutiamo tutti Isac Ciao 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 E' no che a due E' no che a uno Vai con Vai con Sì No No Sì 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 La caca La caca un punto La caca fuori salutiamo tutti la caca Sizzont data Prendi un cucchiaio di Nesquik grande Prendi un cucchiaio di Nesquik Ecco a fare risparmatti adesso continuiamo salutiamo anche ero con la scuola e il colgimena sentra sia sentra sia anche io Michael è? due a uno a sotto il dog sei salvo sei salvo mi sono beccato il calcio mi faccio questo è salvo e quindi signori finalissima i rigori tra me e Peter allora ragazzi abbiamo il portiere della youtuber summer cup del Milan in porta dovrà parare i rigori miei e di Peter ricordo alla meglio dei tre rigori gol ma come si fa? senza la mia roba io non posso essere efficiente quanto vorrei guarda Isaac guardala guardala c'è il tuo equip di cazzate cosa ho sentito? ultimo rigore per me se non sbaglio ho definitivamente perso se no dopo sarà Peter decidere tutto e quindi gol gol sono arrabbiato sono affamato per il mio belle sfida allora Ronaldo Cristiano Ronaldo sui siiii noo 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 e quindi Peter si aggiudica questa magnifica la sette noo 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 lasciate un commento qua sotto scriveteci la prossima challenge tra 7 fratelli che volete vedere sul canale seguite tutti i nostri profili social anche su Instagram e ci vediamo ad un prossimo video ma aspettate un secondo ragazzi lei dove vai? non dimenticarti di scaricare il top 11 mi raccomando fallo woo